non so sexy salve a tutti ragazzi bentornati da ciccio samo e da magrin la vedete la potenza dell'hd la vedete la potenza dei soldi ci siamo procurati questo hd pvr e quindi finalmente senza più l'utilizzo di un fottuto cellulare registriamo in hd ma si è scappato dove sei siamo pronti per la prossima missione che aspetti mince i tumuli con l'amo via filmatozzo forestozza tutto i tuoni i tumuli colli cercare a minghi scomparci un mese che è un gioco quindi pietà se si faremo schifo il che è molto probabile tra l'altro la gente molto figo i tuoi la bellissima di merda scritta come la schifo 9 segreto trovato ma dove io a me mi dice non è possibile eccolo e mila mila come tu apri ok ma solo 2 cioè dove io praticamente non funziona gli archi spezzati ok allora per qui vuol e soli perché sei nominato stupone perché si sono illuminati cosa cade qui questo luogo ma legno funziona tratta una posizione curativa come devi braver già il massaggio in realtà lei che siamo piaciuto le però allora dobbiamo scegliere il fatto io penso possiamo andare dritti non c'è il gioco non c'è la possibilità ma è detto prendiamo dritti ma che è guarda qui le iscrizioni tipo avatar tipo avatar tipo tonanti e quanti sei no e quanti siete però non esistono mai subito che corrono aiuto paese chi è volete subito cominciamo i super bug di questo gioco io colgo l'occasione la giuda è vero quindi ciao giulia allora aspetta commenta allora aspetta facciamo facciamo piccolo inciso diciamo che noi qualche giorno fa abbiamo avuto una mini avventura su amico così così per chi non sapesse che cos'è è possibile ma noi abbiamo uguale va bene è praticamente un sito di incontri è bruttissimo un sito di incontri non è che tu scrivi ciao sono Marco i trattaviani no tu metti la webcam quindi random puoi parlare con la gente che è connessa a quel momento e oltre a tutti gli spettatori pervertiti che c'erano abbiamo incontrato delle ragazze ci stanno pure i bambini tredicenni che pensano veramente così attenzione sto parlando signor trovera veramente guarda c'è insensibile faccia dire e insomma abbiamo incontrato queste ragazze di loro ci ha chiesto se e noi la seguiamo quindi ciao giulia ciao giulia sappi che crazy mood ti vuole bene aiuto oh yeah ah perché sono due mesi vorrei è presa a moraglio e io per guardata a te spioni c'è risolta simile che mi ha preso davvero mai porca troia aspetta io devo ucciderlo questo però ha lanciato rifugio dove ma non vuole che cazzo aspetta che c'è c'era ieri dello speleologo che cazzo è un speleologo che ne so vedete se trovi di quei guanti del ginecologo scriveteci nei commenti che cazzo è uno speleologo perché non sappiamo che cos'è non ci vado alla città perché siamo delle persone almeno io estremamente pigri ma perché io non mi curo e di terza per sé d'andè perché c'è gli occhi che brillo cica perché sono più forti di quelli normali forse non so che che corro non si è capitato alì non ha mai resta mi sono buttato poco una mischia colpo di grazia solo che io mi chiamo motri non un grazia questo potete volendo anche chiudere il video infatti abbastanza no 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 e e accucciato a io c'è lei vale guarda lì ma la spalla combattono contro i veri amici in mezzo in mezzo ai morti non morire io non avere non morire monami monfred giuseppe giuseppe non morire giuseppe non morire allora c'era una canzone che faceva così giuseppe non morire sì sì troppo fuori ma da facca dai dai e se dovessi dire qualcosa di positivo gioco sono effetti slow motion beh esatto che è soli cosa che proprio ti appaga massimamente patatina momento patatini o che è che non lo cazzo è aiuto quanti morti arrivano frecce da chi c'è dai non morti perché guarda di stanno sanno pure tirare vede sul cucurso sul cucurso lo della montagna c'è la neve così aiuto di curo a morici alle uccisione coop ti è come i bravi fratelli veramente c'è presenta roma da riso ma non quando intrinsele comunque c'è una volta che becchi la serie ci avverà di cazzo e fatti tu hai raggiunto per 59 siamo sporco sono sporco infame ma mi dove stanno a stai lassù no io ho visto apri forcieri c'è cato che stiamo di spazio spalla due mani di mare che buona e saranno sempre altri morti no ah no ma girano così ci abbiamo un video noi dobbiamo procedere dobbiamo andare di qua questa aspetta sempre uguale o che palle davvero però è tutte questi muri che sarei con fassa fantasma guarda lo ma qui è l'ettonio quello è to play or sponano con la palestra ma io sbaglio a maxi bici vabbè ma ci vinci ammazzati vai che sa dai mensi casa dai menù aiuto aiuta perché a me perché a me oddio ma io non gli faccio un cavolo con le frecce però c'è una sbagliata e scende dal peristallo è davvero devi scendere dal peristallo maria dei felici maria stavo dove maria ecco eccolo vai marino adesso tipo salito di livello vabbè dopo si mai ha bisogno che faccia dei minion perché se no io non ho se eccoli e vai per voi se io non ho senso qui crepa usci lei maria eccola eccola maria si chiama traslamos come la mostra la playa a mi me gusta playa flavia degustare al ritmo della ragia che lo pizziamo ok va bene va bene così io ho dato un colpo un sbergo forte della tappa siamo per esplorare una tuba bene e topolini sembra di sta giocare outlast e cazzo magari smetto subito gli ultimi figli di cardo la nuova missione chi è che missione che può che missione gli ultimi figli di cardo ma vaule saccheggio alle spadonate con rosa perché che a destra c'è una via un vero a sicuro buona ne fai massa la coppa ma la coppa sei tu no sei tu la coppa sei io la coppa certo ok attenzione vai what's up mi posso ricapitare a tutti così non vedo por di io li posso ricapitare con le frecce mi spacco la testa guarda 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 ah beh ho capito ma è por di io guardalo lo vedi? eh ma sei tipo leggermente illegale però così vai non sai neanche in cui si sta colpe te preoccupa te preoccupa tra tutti la sprizzicanza addosso c'è una sprizzicanza addosso si vabbè io intanto ho ammazzato l'arcieri dai che sono serie no bastardo quello senza testa ma da dietro così vabbè ho capito ammazzati ma è meno alla traditora alla traditora mamma mia che è un nuovo tipo de pasta lo sapevo il pollo alla traditura è apposta di sorpresa il famosissimo pollo alla traditora dove sei che da cazzo stai? eh s'ha seguito la strada perché io mi aspetto ma ecco non è vero ovviamente sta sempre tu quello che va avanti siamo riusciti ma no ma che dici? arrivi ora è piove sempre qua un ombrellino però è sempre la stessa zona oh qui lì lì andiamo verso l'arcieri arcieri arcieri minuto è un'imboscata è un'imboscata riparo da chi non lo so dove vuoi che è tutto spoglio poi mi spieghi perché c'è la sangue questi scheletri guarda lì senza testa senza testa guarda senza testa senza mani mamma guarda senza denti no guarda mamma senza mai guarda senza gambe no ok scusa risate raduna la tua fama ok e non guardiamo lassù successo che devi guarda ci sono delle robe ci sono i tesori mi vedete i tesori i tesori di oriente bro le trentamila pubblicità c'è un segretuzzo noi siamo rientri di minuto armatura vabbè ma è bellissima sta cosa oh coprispone le giri di cardona paragambe vabbè no ma era culo ecco la della gente morta vedo la gente scena allora qui c'è qui c'è questa maia ma questa non è più maria perché maria l'abbiamo già sconfitta una volta questa si chiama giuseppino ecco la peppa peppina ciao piappina come la parte già vogliamo non vuoi ebbè questa mattina 26 per guarda quanto c'è addosso deve che c'è punta spillo vai 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 alle compagnia proprio belle le sassi che vengono sassi risucchiate vengono assorbiti proprio da che non puoi prendere no tumulo diamo un corto a contattato si manda manzo senti ma proprio non ho capito armatura di Tim Gortrad che sicuramente farà schifo al cazzo ok ma perché sono tu che scopri segreti arco del carpentiere ma i carpentieri non so quelli che riparano le navi bastone i carpentieri non so quelli che tipo costruiscono le navi che ci andava con l'arco semmai il martello uno lo può pensare un martello dei carpentieri il carpentieri mi sa che ripara un po' tutto va bene dove siete però backstreet boys ma scapparimai con il Jackson attenzione attenzione che cosa è questo movimento non lo so oh oddio questi si amavano in fretta che fretta è infatti io poi sono andato Giangelo boh che è qua che è qua dove stanno dove stanno c'ho bisogno se guzzi dove stanno sono quelli che si trono decadenti sono necropagi necropagi necromantici dove sono ne ho bisogno io di nemici però ti aspetto fratello ti aspetto dai scendi scendi ti aspetto su vaffanculo però vedete stanno aspettando tu mi colpisci così dica duke vale vai non ho visto che è successo ma è uguale è uguale sì ma dove stanno qui ti è ma perché fai i superpoteri o perché sono i supereroi ma non è vero i supereroi i supereroi sono mascherati guarda che cappella vabbè ma allora pure io secondo questa cosa sono supereroi io sembro un isis proprio io sono un isis non un membro che fa un membro dell'organizzazione io sono proprio un isis io sono proprio un isis apri i puntieri chiara dove io puoi attenzione lo sapevo quando tu guardi l'indiana jones lo sai che quando tu guardi l'indiana jones che è un indiana che di cognome fa jones capito l'indiana jones giovanna l'indiana jones esatto e tu e tu e tu sei mio ancora non è morto per conquisti con la chiave se apri la porta beh non so se vuoi mangiarci ho scoperto un segreto un altro tutto attaccato un altro sono riuscito a aprire la porta e crepa per l'amor di dio è sciotto ma perché sotture le brecce vaffanculo vode capitata così se va così non bene uccisione critica se tu gli elevi la testa e poi gli picchio morono subito no pure te te la danno che ne so si ma tu corri troppo veloci per pure la polverina quando cammini chi è citofonano chi non apro non apriamo noi ma è quello che è dove è uno che cammina è uno che cammina che è morto adesso muorici a lei signore la testa dopo morono subito prima spizzicante le sprizzicante quelle versi poi dopo magari quando ho finito il registro e mi dici che sono sprizzicante ok dopo te lo spiego nella nomenclatura nella nomenclatura binomio del sacramento del gianfrancisco lo dicevo io che l'indiana jones l'indiana jones ma che picchi ai basi perché io sono le grandi le grandi citazioni separa ma che te pari non separa non si sta a parare morto si è morto a culo pizzuto avrai la proporzione è morto vivo attenzione a culo pizzo quello lo prendo io vai sdregnalo sdregnalo però non muore è perché devi colpirlo con l'attacco pesante ecco lo sguzzetto lo sguzzetto attenzione fammi andare a faccia del rutino questo qui sembrava un troll dentro lo fantasma di tu peppa è morta peppa questa qui invece questa si chiama teresina teresina ma che fai le pizze di pasqua guarda che me le fai quando quando dico io attenzione attenzione sdregno vai nano no sei morto capito ma mi dirai sassi sei brutto ti tirano le che ti tirano i sassi e che c'è sta stazzo troietto qua che tira le brecce muori eccolo c'è penso io al fantasma di tumuli che chi me li parlo di spy olè sfondala teresina buonanotte la serie di polpi aia 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 non voglio morire così giovane ho tutta la vita aia aia no ce la fai ucciderla sì che ce la faccio aia aia capito ma queste cose e donatello delle tartarughe inizio tutti i morti no no vabbè aspetti aspetta e strisci strisci verso di lei vai venga venga di fretta che se no perdiamo in fretta sono morto non è che c'è un turbo nel culo arrivo amico a prenderla ringrazio vai yes uccidiamo quel bastardo vai io me levo via teresi porca troppo te reggo questi io tu levali via quelli dai 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 che ti uccido teresina 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 ti eri premuto per rianimare ma anche io eh angria che è crepata ah merda da dietro alla traditora la famosissima traditora però a me da queste spazzate eh io so quelle spazzate lì che non riuscivo a fare non separa è morta è morta teresina morta teresina è morta maria è morta è morta giuseppina per la giuseppina ma quindi niente perché 3 3 it's a magic l'amberava diceva farlo la cera ciasi sbagliati e sono sicuro lo shop lo shop allora vieni chiamalo shops come che vieni ma perché lo dici tipo la capolata che vieni che mi fa il 69 93 che vieni nudo che vado in giro nudo ti piace guardami in calzamaglia sai che sembra tipo i pigiamini alla Michele 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 di coso oh porca di Peter Pan Michele di Peter Pan si chiama Michele si chiama eh Michele e Aristide direi azzarderei una duna c'è un cadavere che è successo chi è non ho messo i sottotitoli è meglio allora praticamente lui è uno dei due amici scomparsi ci ha detto che praticamente c'era l'amico suo è scomparso che l'hanno preso e lui è andato a cercato di salvarlo ma è rimasto che ha mortito quindi si è risviato qui con noi così non sa niente poverino io distruggo questi ma io ho avuto il nostro amico che lo vedo vai 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 abbastanza sommerso dai non muo fai tranquillo col comodo eh eccomi 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 guardi veramente eh oh ma mia Legolas vediamo Manu Legolas facci al campo scuola al campo scuola si al campo scuola dei ragazzi del nord ok quelli del sud non ci piacevano no 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 perché oh sale di livello ma da fuck oh che cazzo dove sei amico dell'amico di uno che noi abbiamo incontrato adesso che non so chi sia vai qua non fare i macelli vai andiamo avanti zona boss era gigante no è troppo grosso eccolo chi la run chi la run attenzione eh beh ma questo non lo dirgli giù mai proprio mai nella vita aspetta io però allora devo mettere fantasma dei tumuli vai vai fa là il fantasma il signore dei fantasma dei tumuli ma non gli posso dire a quello non lo so io ci do rischi ma a chi devo sparare però per colpirlo penso all'uomo penso ma no no che cazzo parà non fa un cavolo io ho sparato a tutte le tue come si fa questa cosa non so che cosa o continuano è venuto qua dove ecco eccolo è lui bisogna picchiarlo vai chiudi pezzettavo così guarda come si fa così va te dai che c'è il simbolino mio vieni qui no vabbè non c'è pre no pre porca troia oh ce l'ha la vita però eh c'è la si aiuto 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 questo fa sbru non fa sbru se si accucciare scombarisciuto signor dove tornato attenzione aiuto secondo me devi nascondire aiuto bello devi nascondire regoloni ho capito ma no fammi rialzare mi frega ti mette fuori a testa a me sì perché ah vabbè c'è così va bene la levis ha scritto sì però quando stanno per terra li dovete finire vici che non è che gli lasciate signori bot mezzi tramordi eccolo vai sfondare ma non gli fa niente però la freccia quella che sì vabbè ma che c'è già chi c'è c'è non mi ha fatto incredibile vai aio e poi da capito siamo rimasti in tre tre briganti e tre sumeri sulla strada verso il regno ah ma quello è un amico eh ma che gli spappoli ma quanto è stronzo scomposto davvero c'è proprio stronzo se non ci puoi non ci posso cadere e allora ste spaccature sono una bella burla si e non ci può te fluttu fluttu lei li evita ma questa gli fa male tipo sbolla ma guarda come io stavo a far chiusura questo mortalità is the way dai 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 ma ti pare è morto 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 sto salito da livello pure io i tuuli furli strozzo morice ok si di solito però mi dispiace un po' per il nostro amico ma abbiamo avuto ho avuto con sacco di roba ha luttato ho luttato o lo so pure io l'orientato con la roba che sa che è morto un peccato veramente un po' caso mi piaci lo un peccato era uno di casa che veniva sempre a prendere il te del seco 5 nel 5 ok sta roba te nevi livello abbiamo finito quindi da che si vuole tutto da allora se il video vi è piaciuto dove la tre camera allora grazie per essere passati vai però non so farlo se il video vi è piaciuto seriamente se vi è piaciuto lasciate un like un commento condividete il video e prima o poi gli dirò uno schiaffo e iscrivetevi al canale da Crazy Mood da Mogrin da questo coglione nominato si ci assavo è tutto quanto al prossimo video stupido quanta merda sei come scusa ridilo grazie a tutti